Benvenuti a questa serata, io innanzitutto vorrei presentarmi e raccontare un po' quello che faccio. Una storia che racconto sempre è come mio padre mi ha iniziato a questo lavoro, che è il teatro però è anche il racconto. Ero molto piccolo, volevo che mio padre mi raccontasse una storia per andare a dormire, mio padre doveva andare a teatro e mentre si faceva la barba mi racconta questa storia vera di Bologna. Nel Medioevo c'è una grande guerra, ci sono un numero incredibile di morti, 15.000 morti di ragazzi bolognesi in questa grande battaglia e il popolo insorge. Insorge e i nobili, i maggiorenti della città, si ritirano nella rocca di Bologna, che era un castello enorme e inespugnabile, e hanno armi e hanno scorte di viveri e acqua per resistere a lungo. E allora mio padre mi chiede come fanno quelli del popolo, i rivoltosi, che non hanno armi, che non hanno macchine d'assedio, che non hanno catapulte, a riuscire a espugnare questo castello straordinario. E io ovviamente non avevo nessuna risposta e mio padre mi dice, gli viene un'idea pazzesca, cioè di coprire questo castello di merda. E iniziano ad arrivare anche dalle campagne, carri, carriole, piene di sterco, che è leggero, iniziano a lanciarlo con delle fionde come quella di Davide e Golia e coprono completamente le mura e le costruzioni di escrementi. E dopo due giorni di questo bombardamento incessante, giorno e notte, i nobili e i maggiorenti si arrendono e il popolo distrugge la rocca di Bologna che infatti non esiste più. Ecco, quello che hanno fatto i miei genitori è di andare a trovare delle storie incredibili, dei buchi nel racconto della storia che ci fanno a scuola e portarlo alla conoscenza delle persone. Mio padre mi diceva sempre che qualunque grande tema storico, se uno va a grattare un pochino, trova delle grandi censure, delle cose che non vengono raccontate. Ecco, questo è il lavoro che io ho fatto in questi anni, non soltanto sulla storia, ma andando a cercare anche altri temi. Ad esempio, il rapporto tra maschi e femmine, io credo che sia, non so qui a Gela, ma insomma nel resto del mondo è una grandissima questione. La gente ha dei problemi d'amore e poi esce di casa infurentito e poi ci sono le guerre, i disastri eccetera eccetera. Ecco, quello che io ho scoperto è che ci sono delle ricerche fatte da scienziati che dimostrano una cosa stranissima, cioè quando noi litighiamo con la persona che amiamo siamo convinti che lei o lui si comporti male, ma invece la verità è che facciamo tutti le stesse litigate. È qualcosa di straordinario e stranissimo che deriva da un fatto che credo che farà grande interesse, cioè che il cervello del maschio e della femmina sono completamente diversi, fisiologicamente diversi. Allora, innanzitutto una buona notizia per i maschi è indiscutibile che noi abbiamo il cervello più grande di quello delle femmine. Questo è importante per noi uomini, perché sapete per noi le misure sono tutto e già intuisco che qualche femmina dice che è solito maschilista. No, aspettate un attimo, perché? Perché quando abbiamo avuto delle macchine talmente raffinate da poter andare a vedere dentro il cervello come era costruito, si è scoperto che maschi e femmine hanno lo stesso numero di neuroni. La differenza è che noi maschi abbiamo i neuroni un pochino più distanti uno dall'altro e questo spiega perché siamo un po' lenti. Non so se vi capita, cari colleghi maschi, che la donna fa una domanda, tu sei lì che stai, allora mi rispondono, c'ho il neurone, devo raggiungere la distanza. Ma questo è niente, è niente perché la femmina ha del 10% più spessa la buccia del cervello, che è quella che distingue l'uomo dalla scimmia. Siamo un po' più bestie, è così. E non solo, ma la donna ha il 20% in più di interconnessioni tra le parti del cervello e questo spiega un grande mistero per noi maschi, cioè tu sei lì che stai dicendo una cosa importante alla donna che ami e lei contemporaneamente sta facendo da mangiare, guarda che il pupo non combina i guai, segue la telenovela in televisione, ogni tanto guarda dalla finestra se arriva sua sorella e tu dici mi ascolti o no? Non perde una parola perché la donna è multitasking. Noi invece possiamo fare una cosa sola per volta, a fatica anche a volte e ci sono tutta una serie di situazioni nella vita quotidiana che poi creano problemi a noi maschi perché le donne diciamo iniziano a stimarci un po' poco rendendoci conto di queste situazioni. Per esempio vi sarà successo che tua moglie arriva e ti dice tesoro con questo vestito è meglio questa borsa rossa o questa fucsia? E tu guardi e non rispondi e lei dice allora non ti interessa niente di me. No, è il problema che noi abbiamo dentro gli occhi meno coni che sono quelli che permettono di distinguere i colori. Non è che noi non vogliamo rispondere, è che non vediamo proprio quello che vede la donna. La donna ha una sensibilità immensa ai colori, ai suoni, alle espressioni del viso. La donna cambia tantissimo espressione del viso mentre parla. Noi di base poco, poi ci alleniamo a non far vedere le nostre emozioni e siamo un po' con la faccia fissa, allegro, triste, dubbioso, sempre uguale. Perché? Perché la donna si è evoluta per vedere subito se il neonato sta piangendo per noia, per fame oppure perché sta male e questo grazie a questa sensibilità. E questo è un dramma poi nel matrimonio perché, lo sapete benissimo, tutte voi donne prima o poi l'avete detto, ma non lo vedi che sto male? No, o me lo dici o non lo vedo perché non sono costruite in quella maniera lì, non c'è niente da fare. Ci sono un'altra situazione molto importante, è che abbiamo addirittura un modo diverso di parlare. Pensate che un uomo molto loquace arriva a dire in un giorno fino a 8.000 parole. Una donna taciturna arriva a 20.000 senza nessun problema. Perché? Ma parliamo per un motivo diverso. L'uomo parla per comunicare informazioni, la donna parla per comunicare emozioni. E questo spiega un grande mistero per noi maschi che tua moglie va in vacanza per una settimana con la sua migliore amica, appena torna a casa la prima cosa che fa è telefona all'amica. Dici ma cosa c'hai da dire? No, ci devono scambiare l'emozione del ritorno. Io l'altro giorno stavo telefonando a un mio amico che sta a un chilometro da casa mia, Mario, c'era davanti a me mia figlia e dico pronto Mario sei a casa? Sì, vengo lì, sì, ciao. Mia figlia mi guarda e dice hai litigato con Mario? No, cosa gli devo dire? Adesso vado a casa e gli dico quello che devo dire. Devo dire oh che emozione venire lì da te che finalmente ci incontriamo, che possiamo dirci delle cose. Attenzione, i maschi cercano mille soluzioni per sedurre le femmine. La cosa più potente, più seduttiva per una donna è semplicemente ascoltarla. Ascoltarla con partecipazione. Una situazione che tutti abbiamo vissuto è, esempio banale, stai uscendo di casa, devi andare a un appuntamento importante di lavoro e giusto quando sei sulla porta che stai per uscire, tua moglie arriva e dice sono amareggiata perché ho avuto una discussione con mia sorella. E tu li devi scegliere. Se vuoi puoi dirle la verità, tesoro, non posso arrivare in ritardo, me lo dici stasera e non hai più rapporti fisici con lei per un mese. se invece ti interessa la carnalità del tripudio dei sensi, devi scegliere al diavolo l'appuntamento e dirle dimmi, tesoro, cosa succede. E non soltanto ascoltarla ma anche sforzarti con l'espressione della faccia. Perché se non partecipi a lei sembra che sei disinteressato. Un'altra questione che ha fatto più morti della seconda guerra mondiale è, e qui credo che il cento per cento dei maschi e delle femmine ha vissuto questa situazione, è tu stai passeggiando per strada abbracciato con la donna che ami, è tutta una situazione meravigliosa, romantica, ci sono tutti i cuoricini nel cielo che dondolano e a un certo punto passa un'altra donna e tutti giri a guardarla e lei si incazza in maniera bestiale. Allora c'è uno scienziato americano che evidentemente dopo che la moglie l'aveva cazziato per questa questione, cosa fa? Manda in giro per la città una serie di uomini e donne con tutti dei sensori per vedere quanto i maschi e le femmine guardino i maschi e le femmine di passaggio. E che cosa ha scoperto? Che guardiamo i maschi e le femmine nella stessa quantità, anzi le donne guardano di più i maschi di passaggio, però siccome si sono evolute per milioni di anni per stare attenti intorno che i bambini non si facessero male, hanno sviluppato un campo visivo così. Cioè la donna non è che non guarda, è che non ha bisogno di girare la testa, perché qua la donna vede benissimo, dice il colletto è stretto, i calzini non sono intonati, eccetera. Noi maschi ci siamo evoluti per un altro problema, noi dobbiamo difendere il branco, difendere la famiglia, noi dobbiamo vedere a 200 metri se quel giallo nella giungla è semplicemente un fiore di ginestra oppure è il manto di una tigre con i denti a sciambola. Noi non abbiamo degli occhi come le donne, noi abbiamo due binocoli, abbiamo la pupilla che è del 10% più grande di quella della donna. E soltanto che qua non vediamo niente, se non giriamo la testa, niente. Insomma, la situazione del maschio è un po' problematica, perché non abbiamo i coni negli occhi, abbiamo il campo visivo ristretto, parliamo poco, non leggiamo le espressioni, eccetera, eccetera. Insomma, abbiamo un cervello un po' disfunzionante e quel poco di cervello che abbiamo è tutto passera. Abbiamo due volte e mezza più grande l'area del cervello che si occupa della questione sessuale. Una femmina caliente nel periodo fertile del mese arriva a pensare al sesso fino a otto volte al giorno. Un maschio pensa al sesso una volta ogni 56 secondi. In effetti poi c'è un'altra cosa in cui noi veramente superiamo le donne in maniera incredibile, e qualche cosa la sappiamo fare anche noi, insomma, è il fatto che abbiamo una capacità straordinaria di imitare il canto degli uccelli. Non serve a niente, però sappiate che all'occasione vinciamo noi perché siamo strepitosi su questo. Proprio una cosa incredibile. Abbiamo anche un'altra capacità, cioè quella di immaginare un oggetto e farlo ruotare nel nostro cervello e questo spiega come mai siamo così bravi a fare manovra al parcheggio. Che diciamolo a voi donne non è che venga proprio facilissimo, però attenzione, chi dice donna al volante pericolo costante, dice una cavolata tremenda perché su dieci incidenti d'auto, otto sono causati da un maschio. Il motivo è molto semplice, ogni 56 secondi ci piglia la botta sessuale, perdiamo il controllo dell'auto e andiamo a sbattere. Insomma, siamo veramente strutturalmente diversi, ma questo potrebbe anche essere interessante, soltanto che nel nostro rapporto quotidiano pesa la nostra storia. Perché? Perché le donne sono state oppresse per migliaia e migliaia di anni. La situazione della donna nell'antica Grecia era terribile, addirittura c'erano le madri che dovevano portare al pater famiglia la bimba appena nata, se la prendeva in braccio la bimba viveva, se non la prendeva in braccio veniva buttata per strada e aveva ovviamente un destino terribile, nella migliore delle ipotesi veniva presa e allevata come schiava. E si dice che oggi la situazione in Italia è dura, certamente siamo pieni di problemi, però fino all'altro ieri la situazione era drammatica. pensate che nel 1956 la Cassazione italiana ribadisce il diritto del marito di picchiare moderatamente la moglie. Cioè se una donna si presentava al commissariato coperta di sangue, se non aveva fratture, la polizia non poteva intervenire perché era diritto del marito. nel 1963 noi abbiamo la prima donna in Italia, una siciliana, franca viola, che rifiuta il matrimonio riparatore dopo uno stupro. Un gruppo di mafiosi va in casa, la rapisce, picchia sua madre, uno di questi la violenta, e poi si presenta alla famiglia dicendo ma io la sposo. E lei dice no, io non voglio sposarti, voglio che tu finisca in galera. E attenzione, allora i giornali ben pensanti gridarono uno scandalo perché questa donna era una poco di buono che era disposta a essere svergognata pubblicamente pur di avere la vendetta. Dobbiamo aspettare alla fine degli anni 70 perché venga cancellata la legge che permetteva di uccidere la moglie trovata a letto con un altro. Dobbiamo aspettare il 1994, e questo è veramente folle, perché lo stupro diventi un reato contro la persona. Prima era un reato contro la morale. Insomma, c'è questa situazione di questo nostro passato che pesa poi nei rapporti con le donne perché le donne sono un po' vendicative. Scusate che vengo. E questa vendetta è portata con astuzia. Iniziano proprio da quando sei nato a praticare questa vendetta. il primo suono che fa il bimbo appena nato e la mamma dice mamma, chiama me. No, sta facendo delle prove tecniche di trasmissione. Comunque va bene che la mamma si prenda il primo suono del neonato. Il problema è quando danno il nome a noi. Papà, pupù, pipì. Cioè che capisci subito che sei una merda e le bimbe fin da piccole sono allevate con l'idea che gli uomini sono un po' stronzi. Ed è una cosa tragica. E se andiamo a vedere anche in grandi testi come la Bibbia, ad esempio, ecco io ho il sospetto che ci sia stato qualche rabbino pigro che ha fatto scrivere dei pezzi della Bibbia alla moglie e lei ci ha messo dentro un po' di vendetta perché se voi guardate i maschi nella Bibbia fanno una figura veramente barbina. Cioè Adamo, il primo uomo, mangia la mela, Dio lo becca e che cosa fa Adamo? Dice ma non è colpa mia, è stata Eva! Ma sei uno schifoso, un vigliacco, dai la colpa a tua moglie, ma è una cosa disgustosa. Poi c'è Abramo. Abramo, l'angelo di Dio gli dice prendi tuo figlio, portalo sulla montagna e sgozzalo e lui cosa dice? Sì, va bene, prendi il coltello grosso. Che se l'angelo di Dio arrivava in ritardo a fermarlo, quello lì ammazzava veramente il figlio. Immaginatevi se la stessa cosa l'avesse detto alla moglie di Abramo. Dice Angelo, sei impazzito, devo ammazzare il mio figlio. Ma non è colpa mia, è Dio che l'ha detto. Ma che venga qua a dirmelo Dio! Me lo deve dire in faccia! Poi c'è Mosè. Mosè passa 40 anni nel deserto perché si è perso e non vuole chiedere a nessuno la strada. Cioè, capite? Una cosa... Una figura terribile. Terribile. E la... Oltretutto c'è poi una situazione veramente pazzesca di disinformazione. Non ci insegnano niente a scuola. Non ci insegnero come corteggiare le ragazze. Non ci insegnano niente del sesso. Io vengo da una famiglia aperta, progressista, di comunisti, ma anche a me non hanno detto mica niente. E a un certo punto io, per informarmi, cercavo qualche libro, qualche cosa. Avevo 13 anni, ero veramente, completamente a digiuno di qualunque informazione e trovo un libro che era La rivoluzione sessuale di William Reich. No, ma tenete pure chiuse le luci. Spegnete le luci di sopra, grazie. La rivoluzione sessuale di William Reich e era un libro che parlava di sesso, ma c'era la parola rivoluzione, comunista, non puoi dire niente. Ecco, io leggevo questo libro che peraltro non parla per niente di sesso, ma a un certo punto c'è una frase che io non riesco proprio a capire cosa voleva dire, perché dice la masturbazione maschile e femminile. Io la masturbazione maschile l'avevo capita, ma ero talmente disinformato che, sembra qualcosa su, ma vi giuro che è vero, io non riuscivo a capire come potessero fare le donne, perché non c'hanno niente fuori, come fanno? Allora vado dalla mia mamma con il libro in mano, dico mamma, qui il libro dice come fanno le donne a masturbarsi? Mia mamma stava facendo il minestrone e si tagliava la verdura, si tagliò un pezzo di dito, divenne rossissima in faccia e mi guarda e mi dice vai a chiederlo al tuo papà. allora io vado al mio papà e lui dice papà scusami, dice la mamma di chiedere a te come fanno le donne a masturbarsi. Mio padre stava in poltrona che stava leggendo il giornale, vi ricordate che una volta i giornali erano immensi, no? Allora, lo vedo che abbassa il giornale un rallentatore che stava prendendo tempo e mi guarda e mi dice giuro eh, non posso rispondere a questa domanda chiedilo le tue fidanzate. Cioè un premio Nobel, mica l'ultimo dei pirla, voglio dire, no? che poi è una roba di sadismo perché lo sapeva benissimo che non c'era nessuna fidanzata, aveva dei disastri proprio dal punto di vista sentimentale e insomma è stata veramente un'esperienza in salita. E ma non c'è soltanto un problema sessuale, c'è un grosso problema culturale, abbiamo dei buchi enormi, noi abbiamo milioni di opere che raccontano tutto dal primo sguardo al primo bacio d'amore, milioni di opere che raccontano tutto dalla prima litigazione legata al divorzio con coltellate in mezzo non c'è niente. E dissero felici e contenti ma dimmi come? Al primo bacio ci arrivo anch'io ma poi cosa faccio? Come faccio a far continuare l'amore? Non è una cosa semplice. E no, non c'è niente e non solo ma abbiamo il mito del Latin lover, quello che cambia donna tutte le notti. Allora non so voi come siano le vostre esperienze ma insomma le prime volte che c'è che si fa l'amore con una donna non è il massimo, sì c'è la soddisfazione mentale della della seduzione però insomma non c'è confidenza non ci si conosce nulla per cui non è un granché ci vuole del tempo il Latin lover secondo me è uno sfigato perché uno che si prende la parte meno fisicamente piacevole e soddisfacente dell'amore non esiste nella nostra cultura la lode alla millesima notte d'amore no, anzi se tu continui a stare con la stessa donna e ami lei e solo lei sei un po' un pirla insomma un fidanzatino di peinè è una situazione strana e c'è addirittura una sorta di paura negli uomini nel dirsi innamorati a me è successa una storia una sera ero a Roma stavo in taxi e a un certo punto mi chiama mia moglie mi dice quello che doveva dirmi e poi ci salutiamo io le dico ti amo voglio di tornare a casa di arrivare presto la saluto finisce la telefonata e il taxista a questo punto fa una cosa cioè qui c'è una piccola parentesi quando noi maschi stiamo tra di noi che non ci sono donne a volte non stiamo neanche lì a parlare che è lungo lui fa un verso fa che vuol dire che palle donne che devi sempre dirgli che li ami perché se no e io avrei dovuto rispondere con un altro grugnito che vuol dire si hai ragione queste donne qua ma siccome c'è un viaggio lungo io sono un po' così mi piacciono le discussioni io invece gli ho detto no ma guardi io non è che l'ho fatto per dovere è proprio che io sono innamorato di mia moglie e allora lui era un uomo sui 65 anni mi dice no no io invece mia moglie proprio non l'amo io non l'amo brava donna eh tirato su tre figli abbiamo i nipoti sono tutti laureati figli una donna che ha fatto tanti sacrifici sempre ha tenuto tutto in ordine ha fatto l'economia per mettere tutti a tavola e inizia a fare una serie di lodi a sua moglie e dopo un po' che va avanti con tutte queste lodi e però continua a dire ma io non l'amo però non l'amo la stimo però non l'amo a un certo punto a me mi viene voglia di fare una provocazione e gli dico scusi ma se sua moglie morisse e lui dice ah se mia moglie morisse sarebbe una cosa terribile io non saprei più come vivere non avrebbe più senso non potrei neanche alzarmi la mattina e andare a lavorare sarebbe qualcosa di orribile di distruttivo per me e allora io gli dico senta ma lei dice un sacco di cose buone di sua moglie che è una santa dice che se lei morisse la sua vita sarebbe distrutta ma non è che lei ama sua moglie no 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 io non la amo non la amo e allora a quel punto lì mi viene voglia di fare un'altra provocazione e di lì senta ma lei provi a immaginare però invece se adesso lei va torna a casa con suona il campanello e quando sua moglie apre lei gli regala un mazzo di rose rosse e gli dice tesoro io ho scoperto che ti amo sei una cosa straordinaria per me sei quello che dà senso e misura la mia vita e lui tanto che guida mi dice ah ma se io facessi una cosa così mia moglie mi direbbe stupido hai buttato i soldi per i fiori allora io ma lei è sicuro e poi sono stato zitto e ho lasciato che il suo cervello lavorasse su questa cosa qua e insomma quando sono sceso alla stazione mi ha giurato che smetteva il turno andava a comprare 12 rose rosse e le portava alla moglie e dichiarava finalmente il suo amore poi non so se l'abbia fatto o no ma spero che l'abbia fatto ecco c'è una mancanza della cultura dell'amore dell'idea che l'amore è la cosa più importante della vita e guardate che l'altra cosa strana è che nella nostra cultura si parla pochissimo di che cos'è l'amore cosa succede quando ci innamoriamo qual è il meccanismo perché l'amore ci viene presentato come una questione psicologica ma non è una questione psicologica è qualcosa di fisico c'è qualche cosa in una persona che ti stupisce lo sappiamo tutti che l'amore viene dallo stupore perché perché quando tu vuoi corteggiare una ragazza cosa fai cerchi di stupirla la ragazza è uguale uno cambia vestito pettinatura la porti a vedere un posto bellissimo vuoi portarla a mangiare qualcosa di stupefacente fare qualche esperienza che desti stupore perché è lo stupore che fa nascere l'amore e l'amore quando succede tu c'hai qualcosa di fisico vi sarà capitato a tutti che sei innamorato esci per strada guardi il cielo e dici è blu l'amico vicino ti dice sì tesoro era blu anche ieri adesso sei fuori di testa non capisci più niente ti sembra più blu del solito no è blu in maniera pazzesca noi vediamo i colori in maniera diversa sentiamo i sapori in maniera diversa e quando uno è innamorato anche il cibo cambia senti i sapori in maniera straordinaria io sono venuto 21 anni fa in viaggio di nozze qui in Sicilia e un giorno eravamo a Sciacca luogo meraviglioso ma era domenica pomeriggio e mi scoppia la famosa fame dell'innamorato e c'era tutto chiuso non trovavamo niente per mangiare qualcosa a un certo punto troviamo un baretto e entro dentro c'avevano soltanto una pizzetta veramente schifosa ma io morivo di fame e mi dia quella pizzetta che probabilmente era lì da millenni e questa me la scalda me la dà io la guardo da vicino e dico veramente impressionante ma sto morendo di fame la metto in bocca e un sapore paradisiaco cioè era cattiva ma era cattiva in maniera talmente potente che era un'esperienza interessante l'amore cambia il meccanismo ed è lo stupore il motore dell'innamoramento e questo dovrebbe servirci per far continuare l'amore perché il problema che non ci dicono che devi coltivare il rapporto d'amore è un concetto che è sconosciuto nella nostra cultura e devi trovare dei modi per stupire la donna che ami se vuoi mantenere quel rapporto lì se no piano piano muore ma non perché l'amore deve morire perché tu ti dici vabbè l'amore dopo due o tre mesi finisce ma non è vero che finisce può continuare per decenni ed è una cosa meravigliosa quando succede però devi tirar fuori delle idee io ho fatto ad esempio un dibattito in internet proprio per cercare delle idee dei consigli ho chiesto alle persone ma come avete fatto voi a rinnovare la vostra storia d'amore sono arrivate un sacco di idee di giochi che la gente si è inventata allora un gioco straordinario che è ruolo maschile il maschio che fa questo gioco con la femmina è il seguente allora tu inizi a nascondere dei bigliettini d'amore scritti con la sinistra di modo in stampatello di modo che lei non possa accorgersi che sei tu e questi bigliettini d'amore inizi a nasconderle in dei punti che potrebbe averli messi anche un altro uomo e vai avanti a fare questo gioco per due giorni e devi partire quando sai che poi lei dopo due giorni tornerà a casa la sera da sola e quando lei arriva la sera sulla porta di casa attacchi con lo scotch l'ultimo bigliettino d'amore a quel punto lei capisce che sei tu e ovviamente è lusingata divertita incuriosita apre la porta e tu hai messo tutta una serie di candele accese che portano la camera da letto e lei a quel punto è ancora più stupita e divertita e quando arriva in camera ti trova che sei vestito al massimo delle tue possibilità e hai coperto il letto di petali di rose bianche e al centro hai realizzato un cuore di petali di rose rosse uomini sentite la tensione solo raccontarlo le donne se poi lo fai veramente è una roba che a quel punto lei è disposta la qualunque ma tu devi essere veramente dimostrare la forza del cacciatore neolitico che resiste in agguato sull'albero aspettando che passi sotto la tigre con i denti a sciabola e invece di saltarle addosso le chiedi di sdraiarsi sul letto ti sdrai vicino a lei sui petali di rose bianche e rosse e inizi a accarezzarle i capelli soltanto e le dici quanto l'hanno quanto lei è una meraviglia nella tua vita quanto lei dà una misura alla tua vita e inizi a accarezzare la guancia soltanto quando lei raggiunge il livello di fusione al calor bianco se fai così poi tu sperimenti quella che è veramente una storia di amore passione e sesso perché attenzione la maggioranza degli esseri umani non sperimenterà mai questo perché non si dà il tempo perché non ha capito che è lo stupore l'elemento fondamentale e che tu devi giocare all'interno del rapporto d'amore la maggioranza del mondo degli uomini e delle donne vivono soltanto il prossimamente del sesso e della passione un trailer ed è per questo che il mondo va così nel casino perché la gente non è soddisfatta di quello che vive come sentimenti e poi vuole fare danni per il mondo perché odia tutti bisogna iniziare a inventarsi delle storie io a un certo punto dopo otto anni di matrimonio ho avuto proprio una rottura con mio amore sai quando arrivi che c'è tutto l'elenco delle cose malvagie che lei ha fatto e lei ha l'elenco delle cose malvagie che tu hai fatto e non c'è più nessun perdono nessuna possibilità niente è finito basta ci mandiamo a quel paese uno va da una parte uno dall'altra poi evidentemente c'era del sentimento e dopo un po' ci viene voglia entrambi di rincontrarci e attenzione la cosa importante quando litigate bisogna per fare la pace aspettare almeno un'ora perché per mezz'ora e più restano in circolazione le adrenaline della rissa è una roba chimica vedete presente tu cerchi di fare la pace arrivi e ricomincia a litigare subito ma perché no perché vuoi litigare ma perché la chimica è la chimica della guerra che è scattata ed è un disastro e ci rincontriamo e decidiamo di fare una cosa assurda che puoi fare quando hai confidenza con una donna che hai vissuto per anni con lei cioè decidiamo di fare un gioco facciamo finta che non ci siamo mai conosciuti uno è lo sciamano lo stregone che deve fare un rito e l'altro è il paziente pari o dispari chi fa lo stregone chi fa il paziente vince lei e la regola di questo gioco è che per un'ora il paziente deve fare tutto quello che vuole lo sciamano deve ubbidire e ciecamente allora mia moglie mi ordina di mettermi nudo sul letto sdraiato così con un asciugamano in testa per non vedere quello che succedeva e poi lei va in cucina e io sento uno sferragliare e c'avevo paura che arrivasse col coltello perché ci eravamo detti talmente terribili c'era stata un'esplosione di odio e di rabbia talmente questa mi ammazza proprio domani sui giornali accoltellato nudo sul letto con l'asciugamano in testa e mia moglie mi lascia lì per un quarto d'ora immaginatevi la mia situazione tu sei lì che senti dei rumori non riesci a capire tutti i sensi si aprono aumenta la tua percezione cambia proprio la tua percezione e poi lei arriva e inizia a fare una cosa sulla mia schiena che io non capisco che cosa stava succedendo nella fattispecie lei mi ha ricoperto di spaghetti lessati allora quando tu sei lì nudo sul letto con l'asciugamano in testa e ti rendi conto che tua moglie ti ha coperto di spaghetti lessati ti stupisci e anche tua moglie si stupisce mentre ti copre di spaghetti lessati perché non è una roba normale è una roba un po' strana e è ricominciato l'amore e siamo riusciti così a uscire da quella situazione che apparentemente non aveva soluzione perché perché se tu riesci a rientrare in una situazione di stupore rientri poi nella situazione iniziale che ti ha portato a innamorarti e lì parte tutta una cosa che se va bene poi ovviamente poi bisogna inventarsene un'altra perché non è che puoi fare sciamano e paziente no devi inventarti altri giochi altre idee altre soluzioni ecco io credo che se uno inizia a affrontare il rapporto d'amore in questa maniera può migliorare e può anche iniziare a pensare in modo più aperto a tutta una serie di dinamiche stranissime che vengono fuori proprio perché siamo completamente diversi queste risse inutili e sempre uguali per tutti gli esseri umani una che mi viene in mente è facciamo un esempio banale che sarà capitato a tutti torni a casa dal lavoro e tua moglie ti dice sono triste perché ho litigato con la vicina sto male allora donne quando voi dite una cosa così nel nostro cervello maschile guerriero scatta una reazione atavica millenaria hanno fatto incazzare la mia donna hanno fatto male alla mia donna è guerra e allora tiri fuori il file della memoria delle guerre il sotto file guerre con i vicini dalla guerra di troia in poi e inizi a analizzare tutti i comportamenti cosa ha fatto tu cosa ha fatto la vicina cosa ho detto io cosa ho detto lei perché devi fare una strategia vincente per proteggere tua moglie e alla fine di tutto questo ragionamento che ti fai nella testa arrivi anche a analizzare quello che tua moglie ha fatto con la vicina perché vuoi che lo scontro sia vincente bisogna stroncare questa vicina e dici però tu amore l'altra volta la vicina hai detto così secondo me è meglio invece dirle così perché e tua moglie ti guarda e dice ma come io sto male perché ho litigato con la vicina e tu mi critichi e lì inizia la rissa domestica perché perché la donna quando ti dice sto male ho litigato con la vicina non vuole la guerra lei vuole essere abbracciata donne ditelo ho litigato con la vicina abbracciami sì cara certo perché se ci ditte che cosa dobbiamo fare lo facciamo ma non potete pretendere che lo capiamo da soli non siamo in grado ovviamente il maschio è voluto adesso che voi avete questa informazione spero che lo facciate anche voi quando la moglie dice sto male ho litigato con la vicina chiedere scusami è guerra totale o vuoi solo essere abbracciata basta chiedere lei risponde si chiarisce si evita la differenza tra maschio e femmine è talmente enorme che hanno fatto una misurazione nel tempo in cui una donna masticando il chewing gum consuma 6 calorie un maschio nello stesso tempo masticando lo stesso chewing gum non proprio lo stesso un altro ma comunque masticando un chewing gum consuma 11 calorie come è possibile è sempre masticare il chewing gum com'è che la donna consuma meno calorie del maschio perché è diverso il suo modo anche di masticare la donna anche se non ha figli è strutturalmente madre la madre si occupa dei figli per l'eternità la mamma non smette mai di essere mamma e per cui qualunque cosa fa la donna anche masticare il chewing gum lo fa come se dovesse durare in eterno quindi quando mastica il chewing gum è risparmio di energia il maschio no il maschio si è voluto esattamente per il contrario il maschio è un appendice della razza umana noi serviamo soltanto in certi momenti per cui dobbiamo essere diciamo pronti a mettere il massimo dell'energia e poi ci spegniamo bisogna combattere per difendere la famiglia poi è finito bisogna trovare il cibo vai ti arrampi che cosa porti a casa da mangiare metti giù bisogna continuare la specie tru 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 vero o no ci addormentiamo subito perché noi abbiamo un meccanismo acceso spento acceso spento e la donna quando è in stato proprio di completo relax arriva a spegnere il 30% del cervello il maschio quando entra in stato di relax spegne il 90% del cervello cioè spegniamo anche alcune funzioni vitali fondamentali questo provoca un altro disastro tu sei lì che sei bello rilassato così che proprio hai il cefalogramma piatto arriva la donna che ama che ama e ti dice tesoro a cosa stai pensando a niente amore ma non è possibile non pensare a niente dai dimmi cosa stai pensando non sto pensando a niente ma dai su dimmelo si pensa sempre a qualcosa ma io non sto pensando a niente allora stai pensando all'amante e lì parte la guerra civile organizzata donne noi siamo capaci di non pensare a niente niente proprio niente e poi c'è il grande dramma che ha distrutto la stima di milioni di donne per milioni di uomini e tu sei lì che stai andando ad un appuntamento importante sei vestito perfettamente ma con i piedi nudi perché non trovi i calzini donne sapete questa storia allora a un certo punto rischi di arrivare in ritardo vai da tua moglie e dici scusa amore questa volta mi sono impegnato mi sono impegnato ho cercato dappertutto non riesco a trovare i calzini non è che mi diresti dove potrebbero essere allora tua moglie le crolla tutto la stima tutte le cose che hai fatto per lei amore sono in camera da letto sul comò grazie tesoro grazie allora vai in camera da letto ti metti davanti al comò cazzo non ci sono i calzini allora dici forse non li vedo perché sono nervoso e allora scannerizzi il comò proprio millimetro per millimetro però calzini non ci sono ormai si inizia a essere in ritardo dice tesoro amore guarda scusami io sono andato in camera i calzini non ci sono ma che mi dai tu il calzino allora lei parte con quel modo di fare tipo santa martire un po' regina un po' martire va in camera da letto fa dei movimenti molto ampi e poi fa così amore i calzini sono qui sulla spalliera della sedia a 5 centimetri dal comò come fai a non vederli e tu dici minchia mi hai dato un'informazione sbagliata di 5 centimetri come faccio a vedere mi hai detto sul comò se erano sul comò li vedevo ma non c'erano sul comò e lì proprio la stima subacquea però donne voi in questo caso permettetelo di dirlo sbagliate perché questo fatto che noi non troviamo i calzini è la nostra dote migliore perché noi siamo capaci di pensare una sola cosa per volta non abbiamo le interconnessioni cerebrali come voi e questo è fondamentale perché per centinaia di milioni di anni noi ci siamo sacrificati a milioni andando a combattere a mani nude o con un sasso o un bastone con le tigri con i denti a sciabola per salvare le donne e i bambini in testa avevamo una sola cosa salvare le donne e i bambini se eravamo capaci di pensare due cose la seconda era ma la tigre è messa in magna e scappavamo e la tigre beccava voi con in braccio i pupi che non potete correre e la specie umana sarebbe terminata allora se siete qui belle vestite sotto un tetto e stasera potete dormire sotto un tetto dovete ringraziare soltanto questa nostra straordinaria capacità di pensare una cosa sola e di sacrificarci per la famiglia fino alla morte a questo punto lei ti guarda perché avere l'ultima parola con le donne mai e ti dice tesoro siamo nel 2000 l'animale più feroce del circondario è un chihuahua con la gastrite non è che potresti evolverti dall'età della pietra non dico arrivare ai tempi nostri ma al basso medioevo donne se poi noi ci evolviamo e arrivano gli extraterrestri cattivi chi è che va a fare attestate con loro no perché voi dovete stare attenti perché se voi volete una cosa poi si realizza poi vi incazzate una cosa tutte le donne qui presenti tutte avete detto e magari anche più di una volta all'inizio dei rapporti d'amore a un certo punto lei ti guarda e dice amore secondo me la cosa veramente importante in un rapporto d'amore è la sincerità perché se siamo sinceri qualunque problema lo possiamo appianare tu la guardi e dici va bene sincerità poi un giorno sei lì seduto stai guardando la televisione arriva tua moglie e ti dice tesoro andiamo all'Ikea e tu la guardi e dici la verità la pura sacrisanta verità tesoro vacci te all'Ikea che io mi rompo i coglioni dopodiché la porta del paradiso è chiusa se ti interessa invece la relazione fisica e statica con lei devi mentire orrendamente ti alzi la guardi con gli occhi stupiti e dici tesoro ma come hai fatto io ero qua sentivo sentivo qualcosa un desiderio che però non riuscivo a esprimere veramente e tu sei arrivata con questa parola Ikea sì amore andiamo all'Ikea compriamo dei cuscini decorati liberti dai andiamo e quando sei lì all'Ikea non devi stare in un angolo proprio così finito no devi danzare tra gli stand e le camere arredate e lanciare degli urli guarda amore tesoro questo tavolino basso che bello svedese lo mettiamo tra il divano e il televisore ci mettiamo soprattutto le bibite i poccorn ci mettiamo insieme abbracciati sul divano a guardare il film d'amore dai sì amore dai facciamolo compriamolo compriamolo oh amore guarda guarda queste tendine queste tendine compriamole le mettiamo in cucina sono marroncine fanno pandan con le fette biscottate la mattina mangiamo le fette biscottate col burro guardiamo le tendine ci amiamo tanto con tutti i cuoricini è chiaro che stai mentendo orrendamente ma lei è felice e se ti fa se hai fortuna ti fa delle cose turche le famose cose turche Ikea che sono uno dei motivi per cui vale la pena di vivere grazie ecco questo è un esempio di un modo di fare un'inchiesta su questioni vere documentarsi e poi riuscire a raccontarli spero in modo divertente e a questo punto credo di essermi presentato che si sia capito il tipo di lavoro di impostazione che io seguo che poi è quella come ho detto dei miei e arriviamo all'argomento di questo incontro Gela quando io sono venuto in viaggio di nozze con mia moglie 21 anni fa qua in Sicilia mio padre mi ha detto guarda devi assolutamente andare a Gela perché è una cosa pazzesca hanno la nave più antica del mondo è una cosa che devi assolutamente vedere perché io ci sono stato e ho vista e io arrivo al museo e non riuscivo a trovare dove era l'ingresso c'erano dei signori in divisa e dico scusate ma l'ingresso del museo perché mio padre mi ha detto che qua ha visto questa nave sono scoppiati a ridere e io ho scoperto che il museo era chiuso e poi era stato chiuso per molto tempo la nave gli hanno fatti vedere dei pezzi solo a mio papà non era lui pensava che fosse in esposizione ma invece era una cosa che l'allora direttore del museo gli fece vedere dei frammenti perché era Dario Fo era una cortesia nei suoi confronti e questa è una città veramente incredibile ed è incredibile che sia così poco conosciuta nel mondo avete qui dei tesori strepitosi ci sono tutte queste grotte che poi vennero utilizzate come sepoltura per i morti ai tempi dei Greci prima dei Siculi ma inizialmente ho scoperto andando a fare una ricerca che era un insediamento dell'età della pietra qui c'era uno dei più grandi insediamenti umani d'Europa Gela era una delle grandi capitali del mar mediterraneo era la New York nel 600 avanti Cristo 2600 anni fa era qualcosa di non ricco di più e lo dimostra il museo che voi avete che ci sono delle cose veramente straordinarie ci sono delle storie che sono proprio da raccontare sono delle storie da raccontare è orchestrato il primo gran gourmet dell'antichità sempre 2600 anni fa questo che fa praticamente la prima guida dei ristoranti del mondo conosciuto da allora di tutto il Mediterraneo e attenzione è una cucina rivoluzionaria allora era rivoluzionario ma è rivoluzionario anche oggi perché se voi andate a leggervi le ricette sono delle ricette moderne lui se la prende con i cuochi che mettono troppi condimenti troppe salse che non stanno a vedere che cosa servono dove è stato pescato quel pesce in che periodo è uno che aveva già capito l'importanza di mangiare i cibi di stagione e delle ricette fantasiose queste le sarde avvolte nella buccia dei fichi con un po' di polpa legate con il giunco messe sotto la braccia a cuocere e poi lui dice conditele soltanto con un goccio d'olio d'oliva e un pizzico di sale ma è una cosa grandiosa è il primo a fare una cosa di questo genere orchestrato di gela perché era proprio di qua non è che era passato di qua è un vostro antenato e le donne di gela ma voi avete qui donne delle cose incredibili che hanno fatto le vostre antenate quando nel 400 avanti Cristo la città si è liberata dai tiranni dal tiranno ed è stata poi attaccata dai cartaginesi che cosa succede siccome avevano già distrutto Siracusa allora gli uomini di gela dicono donne salvatevi voi insieme ai bambini restiamo noi a combattere e le donne di gela dicono no se voi restate qua noi restiamo a combattere con voi e di giorno i cartaginesi attaccano e di notte le donne i bambini e gli uomini ricostruiscono le mura e vanno avanti una resistenza incredibile Siracusa l'avevano presa subito i cartaginesi gela 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 resiste ma a un certo punto si rendono conto che hanno davanti un esercito sterminato e non ce la possono fare e allora fanno una grande operazione di teatro cosa fanno? le donne e gran parte degli uomini scappano restano duemila combattenti che per coprire la fuga di questi probabilmente ci sarà stata una galleria non so come avranno fatto la storia non ce lo racconta ma mi piacerebbe fare una ricerca e questi uomini duemila uomini restano in città e iniziano a fare rumore a fare rumore per far finta che stanno tutti ancora ricostruendo anche quel giorno le mura della città e poi all'alba prima dell'alba riescono a scappare anche loro e quando arrivano i cartaginesi entrano in città ma non c'è più nessuno e si salvano tutti è una serie di storie meravigliose l'allemanna ma se se lo sapessero i tedeschi che voi c'avete la madonna tedesca ma verrebbero qui tutti quei tedeschi che vengono in Sicilia devono venire a Gela a vedere la madonna dell'allemanna ma in quale altro posto del mondo c'hanno una madonna allemanna i tedeschi non c'hanno niente poveracci e da questa ricerca è nata un'idea grazie al fatto che noi abbiamo realizzato un progetto con Eni e ci è stato chiesto ma secondo voi che cosa si potrebbe fare per rilanciare il turismo e rilanciare la notorietà di Gela nel mondo ecco noi su questo abbiamo delle esperienze e che cosa che cosa facciamo cerchiamo di creare un gruppo di animazione culturale formiamo qualche decina di ragazzi e ragazze creiamo un laboratorio di ricerca storica fatto oggi internet ci permette poi di farlo con un piccolo gruppo ma riprendere le lezioni riprendere i laboratori e farli vedere a internet a tutti quelli che vogliono seguire anche a distanza e collaborare a questo lavoro e da questo lavoro di ricerca iniziale parte poi la realizzazione di uno spettacolo teatrale per raccontare la storia di un film che racconti tutta l'avventura di creare questo spettacolo teatrale un documentario sulla storia che si è trovato un libro un sito internet e si inizia un lavoro di comunicazione e abbiamo visto che questa cosa funziona la nostra domanda era a Gela ed è è il motivo per cui io e Bruno Patierno siamo qui stasera chiedendoci siamo venuti chiedendoci un'idea di questo genere può interessare agli abitanti di Gela perché ovviamente se tu hai una proposta ma non interessa a nessuno amici come prima e siamo venuti qua e abbiamo iniziato a incontrare una serie di associazioni di gruppi teatrali sono stato in una scuola elementare sono stato in una scuola media abbiamo incontrato insegnanti presidi eccetera e l'amministrazione pubblica le persone che lavorano all'Eni e abbiamo iniziato a portare questa idea può essere interessante questo io mi sono stupito perché abbiamo trovato non soltanto interesse ma abbiamo trovato una situazione di ricchezza culturale enorme qui voi avete gruppi sociali che stanno facendo delle cose eroiche grandiose intelligenti nuove c'è un fermento enorme che io non sapevo sono venuto a posto per scoprirlo però io sono ottimista di natura ma sinceramente non mi aspettavo una ricchezza di questo genere ma in tutti i settori anche nel settore della solidarietà voi avete una città che qui appena usciti dal teatro a sinistra c'è l'ex orfanatrofio femminile e abbiamo conosciuto questo Don Lino che io sono arrivato in questa struttura bellissima c'è questo refettorio proprio con la tavola imbandita con un amore enorme con i centrini con le trenette e poi c'è questa cucina modernissima e c'era questa squadra di cuochi che sembrava di essere trasmissioni televisive tutti col coso bianco coi cappelloni alti con un orgoglio un orgoglio volontari che danno il loro tempo che si tassano per riuscire a fare questo servizio che si sono organizzati a farsi dare dai supermercati dai ristoranti quello che è ancora buono ma che non viene utilizzato per dar da mangiare tutti i giorni a questa gente ho fatto una passeggiata ho fatto una passeggiata con Don Lino sul corso e l'hanno avvicinato tre persone che gli hanno detto Don Lino si mangia? e lui si certo venite si mangia certo anche oggi si mangia ma questo questo è l'oro del mondo e questo l'ho visto nei ragazzi che fanno i musical in inglese e che addirittura si occupano di aiutare lo Zambia grazie ai soldi che incassano facendo questi spettacoli in inglese per aiutare le scolaresche a imparare l'inglese in maniera divertente e con i soldi che guadagnano li usano non per loro ma per dar da mangiare la gente dall'altra parte del Mediterraneo è grandioso è grandioso e il lavoro che noi facciamo culturale è potremmo definirlo un'inchiesta letteraria che anche lì non l'ho inventata io l'hanno inventata i miei genitori io vado soltanto avanti sulla strada che mi hanno insegnato a percorrere e che cos'è che ha fatto mio padre quando ha fatto Mistero Bucco c'erano questi pezzi di questi giullari che però non sono arrivati da noi a noi dei testi scritti dal Medioevo sono arrivati dei frammenti cioè che cosa succedeva c'erano dei notai appassionati di teatro e gli veniva voglia di ricordarsi queste giullarate che avevano visto in piazza o in chiesa perché allora le giullarate venivano fatte nelle chiese facevano parte proprio del rito religioso erano un modo per raccontare ai fedeli il Vangelo recitandolo e questi notai c'erano gli atti notarili che occupavano il centro del foglio siccome la carta costava moltissimo loro per risparmiare per non sprecare carta annotavano sul bordo dell'atto notarile nello spazio che era stato bianco lo schema la struttura in teatro si dice il canovaccio dello spettacolo cioè i punti essenziali e mio padre inizia a parlare con una serie di grandi ricercatori e professori e che cosa si accorge che non si riusciva a capire la storia qual era perché erano solo i titoli dialogo tra l'angelo e l'ubriaco situazione e mio padre dopo un po' che fa incontri con questi professori ad un certo punto si mette a parlarne con mia madre mia madre veniva da una famiglia che nell'ottocento facevano i marionettisti come i pupi loro giravano nei piccoli paesini della Lombardia e poi iniziarono anche a farli questi spettacoli di persona cioè con gli attori non più con i burattini e la loro capacità dei miei nonni dei miei bisnonni era quella di arrivare magari in un paese e scoprivano che era la festa del santo patrono e soltanto dalle poche parole dell'immaginetta loro riuscivano a ricostruire quella sera stessa uno spettacolo perché perché loro sapevano già diciamo la struttura di vari dialoghi c'era lo scontro tra la madre e la figlia piuttosto che il padre che cerca di impedire al figlio di sposare la donna che ama o il re che incita il generale ad andare alla battaglia eccetera erano dialoghi che loro conoscendoli avendo tutti i costumi a disposizione mischiavano e mio nonno scriveva in quinta cioè lì all'ingresso degli attori nel palcoscenico c'erano due fogli da una parte all'altra col canovaccio cioè i titoli delle scene che venivano recitate e allora mio padre inizia a leggere a mia madre questi questi titoli questi canovacci medievali e mia madre inizia a dire ma io questo lo so l'ho recitato e inizia a recitarli i pezzi e allora tramite la memoria di famiglia di mia madre mettendola assieme con le ricerche di questi grandi professori universitari mio padre riesce a ricostruire la storia questa è un'inchiesta letteraria e io così ho fatto un gesto avventurista andando nella scuola media verga c'erano non so una sessantina di ragazzini e ho provato così a buttarla giù per far capire anche qual era la mia idea di fare un gruppo di animazione culturale perché selezioniamo dei ragazzi che fanno un percorso professionale ma la cosa bella è se poi con questi ragazzi collaborano i ragazzini delle scuole media delle scuole superiori eccetera e allora ho detto sentite vorrei coinvolgervi in una ricerca che mi piacerebbe fare voi qui avete una storia che conoscete tutti la storia del gigante Manfrini secondo me in questa storia manca un pezzo perché c'è la descrizione del gigante della sorella del gigante ma quando il gigante Manfrino si innamora di questa ragazza che vede che poi sparisce e poi la sorella organizza la festa invitando tutti i nobili i maggiorenti sperando che anche questa ragazza venga alla festa così suo fratello smette di piangere perché è innamorato di sta ragazza che cosa succede che la ragazza arriva e Manfrino va verso di lei e come nella favola di Cenerentola lei però fugge e lui la insegue fino alla spiaggia del mare e vede che lei entra nell'acqua lui resta paralizzato i nobili che erano golosi verso la proprietà di questo gigante Manfrino che era enorme e meravigliosa e tenuta bene c'era addirittura un tesoro nella rocca cosa fanno? Uccidono la sorella e poi approfittano del fatto che Manfrino è paralizzato sulla riva del mare uccidono anche lui storia tristissima peraltro ma c'è un pezzo che manca chi è questa donna? Allora io gli dico ragazzi sarebbe bello se voi iniziaste a intervistare i vostri nonni le vostre nonne perché io ho letto che ci sono varie versioni di questa favola e magari c'è una versione che ci dice chi è questa ragazza il pezzo mancante oppure trovate un'altra storia che ci racconta chi è questa ragazza perché a volte non raccontavano tutta la favola perché era dato per scontato che chi ascoltava la favola sapesse chi era la fanciulla che strega il gigante Manfrini e che cosa viene fuori? E loro sapevano già la risposta avevano fatto uno spettacolo su il gigante Manfrini e mi raccontano la storia della donna verde della dama verde di Castelluccio che appunto stregava i passanti per derubarli e poi c'è un ragazzino di 12 anni che dice ma questa storia mi ricorda i canti sull'epopea di Re Artù perché c'è Mago Merlino che si innamora della principessa del lago io resto folgorato perché in Inghilterra in Inghilterra c'erano i normanni che arrivano anche in Sicilia ed ecco il percorso della storia cioè la ricerca è iniziata ed è finita io ho dovuto dire vabbè però andiamo avanti a ricercare facciamo un laboratorio troviamo altri elementi adesso abbiamo un sospetto dobbiamo trovare le prove e gli ho detto è come un'inchiesta giudiziaria dobbiamo non solo sospettare il colpevole ma poter provare in tribunale che è andata esattamente così e io credo che questa e l'ho visto subito sia un modo di raccontare che appassiona perché non arrivi con una cosa che devono imparare ma solleciti la loro voglia di studiare di capire di ragionare di fare l'inchiesta appunto è un'inchiesta letteraria io credo che questo sia la grande risorsa di cui abbiamo bisogno ma non solo per Gela per tutta l'Italia per tutto il mondo quello che manca oggi è la passione noi abbiamo delle strutture scolastiche che non sempre riescono a insegnare la passione ai ragazzi qui ho visto delle cose meravigliose anche le scuole elementari dove siamo andati un livello di bambini in questo quartiere periferico c'erano dei bambini che mi hanno fatto delle domande appena ho iniziato a parlare del teatro di come si usa la voce gli ho fatto vedere un po' come fa i giochi del mimo insomma cose buffe ha avuto molto successo questo gioco ve lo propongo perché è in grado di cambiarvi la vita se voi incrociate le dita così attenzione che sono proprio incrociate bene questa è la nocca questo è il palmo del dito il polpastrello allora se io appoggio il naso la punta del naso qua di modo che tocchi sia il polpastrello che la nocca così e accarezzo il naso provate lentamente delicatamente provate devono toccare tutte e due però e non solo uno no così così dopo un po' sentite che avete due punte del naso che è un'esperienza meravigliosa se siete tristi un giorno fate così la vita è una merda però ho due nasi ma fa un bagno e chi se ne frega è una cosa bellissima questo se voi volete fare bella figura con i bambini gli insegnate questo vi vogliono bene subito io vigliacamente uso questi sistemi quando vado nelle scuole con i bambini piccoli ecco va bene questa cosa del naso mi ha un pochino confuso ho perso il filo ma comunque diciamo nella mia esperienza in queste iniziative che abbiamo fatto io e Bruno insieme in giro per il mondo che cosa ci siamo resi conto che la il teatro è uno strumento per dare passione in maniera incredibile per questo io voglio fare una formazione a un gruppo di animazione culturale che abbia dentro uno spettacolo teatrale perché quando tu ti trovi a raccontare le tue storie o raccontare un testo che hai scritto anche tu insieme collaborando davanti a un pubblico è un'emozione pazzesca questo io credo che l'arte non sia adesso ho visto questa cosa veramente che mi ha entusiasmato che visco quello della Banca d'Italia ha dichiarato in un'intervista sul Corriere della Sera che la cultura è una cosa che si mangia ed è già una cosa non solo ma ha detto che la cultura è il principale presidio contro la corruzione e la criminalità perché solo un popolo ignorante accetta la criminalità e la corruzione se c'è cultura la criminalità e la corruzione sono finite ma io anche se non sono direttore della Banca d'Italia cosa che non farò mai perché fallirebbe subito vorrei aggiungere una cosa noi non possiamo pensare a una riforma della sanità a tagliare lo spreco della sanità senza capire che la cultura la passione per l'arte e la passione per la solidarietà sono medicine ma ci sono delle ricerche che dicono questo e io l'ho visto nella mia esperienza mio padre a giugno il primario Poletti dell'ospedale di Forlì mi ha detto preparati perché tuo padre ha pochi giorni di vita mio padre al primo agosto ha recitato a Roma davanti a 3.000 persone non aveva più fisiologicamente i polmoni ha finito lo spettacolo cantando noi abbiamo fatto le riprese di questo spettacolo e ha continuato a lavorare 10 ore al giorno fino a 10 giorni prima di morire quando proprio non poteva più allora la riforma sanitaria vuol dire che i medici sulle ricette devono iniziare a scrivere tutta la serie di medicine e poi scrivere tutti i giorni dopo pranzo fare arte e fare solidarietà occuparsi degli altri allora io credo che qui a Gela ci siano le possibilità ci siano le premesse il senso di questa serata di questi incontri che abbiamo fatto in questi giorni è quello di portare una proposta a Gela questa è la nostra proposta scegliere una strada di valorizzazione della vostra enorme ricchezza puntando su un'iniziativa che poi ovviamente deve essere in grado questo gruppo di animazione culturale deve essere qualcosa in contatto con le associazioni con tutti i gruppi che sul territorio sono attivi e sono propositivi e questo gruppo deve iniziare un lavoro non solo teatrale ma proprio un lavoro di indice delle risorse che voi avete risorse di eccellenze agricole eccellenze dell'artigianato voi avete qua il pane di Gela io sto mangiando pane come una bestia è una cosa meravigliosa ma devono saperlo in giro ma non potete tenersi segno è anche egoista da parte vostra io capisco che non vogliate che vengono qui tutti a mangiarvi il pane che poi ce n'è poco ma insomma si può trovare il modo anche di produrne magari di più non so io poi ho un sogno una cosa che non sono ancora riuscito a realizzare ma che sono sicuro che avrebbe un effetto strepitoso a me piacerebbe fare un parco a tema come Disneyland però invece di spendere milioni di euro per costruire le montagne russe e le ruote panoramiche ricostruire la piazza di Gela antica di Gela greca e avere dei ragazzi e delle ragazze che si vestono con quei costumi e ritirano fuori con l'aiuto degli artigiani e dei contadini anziani le vecchie tradizioni il fabbro il falegname il pastore che munge la pecora avere i cavalli le mucche le galline e poi vicino avere un ristorante che faccia i piatti di archestrato e uno shop con tutte le eccellenze agricole e con tutte le eccellenze dell'artigianato abbiamo c'è stato un gruppo nel 2000 di architetti e artigiani capitanati da Vincenzo che hanno proprio ad esempio provato a ricostruire gli oggetti degli oggetti artigianali fatti oggi ma ispirati alle ricette di archestrato insomma io credo che si potrebbe fare offrire una cosa straordinaria cioè far fare ai turisti alle scolaresche un viaggio nel tempo fargli vedere che cosa era Gela e anche ricostruire al di là ricostruire la nave per il museo ma proprio fare un modellino scenografico fatto in materiali moderni e poi accittato come se fosse la nave antica e far andare su e giù per il fiume Gela i turisti a remare sulla Triremi che sarebbe bellissimo verrebbero da tutto il mondo io credo allora vi piace? vediamo noi abbiamo questa proposta ovviamente si tratta che ci sia nei prossimi giorni una delle manifestazioni di interesse da parte dei gelesi in questa direzione abbiamo valutato che ci sono le precondizioni per farlo e per cui si potrebbe farlo quello che manca è vedere fino a che punto c'è interesse e fino a che punto ovviamente c'è interesse che lo facciamo noi perché poi non è obbligatorio Gela ha una storia che è pazzesca di livelli altissimi e poi momenti di difficoltà e poi di nuovo momenti altissimi pensate che dopo la distruzione nel 200 avanti Cristo per quasi 1500 anni è stata ridotta a un piccolo villaggio e poi è rinata e diventata una grande città e c'è una storia che nei secoli è legata alla capacità alla perseveranza alla come posso dire alla tenacia questa nave che ho ridisegnato qua in maniera ipotetica è un po' il simbolo della situazione questa nave è stata costruita 2600 anni fa da un gruppo di gelesi che avevano una determinazione e una cultura e una professionalità straordinaria è stata ritirata fuori dal mare da un altro gruppo di gelesi che avevano una tenacia e una determinazione una cultura straordinaria e hanno capito il tesoro che c'era e adesso questa nave è qua però è chiusa nelle casse avete voglia di tirare fuori questa nave e mostrarla al mondo grazie grazie buonanotte grazie 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 grazie